Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Doolay, quella di David Cora Kent, e sarebbe piaciuto anche a me scrivermi una così. Invece, invece niente. Mi ho fatta una per uno che sta a Milano, a Giambellino, il Cerutti, il Ceruttigino. Il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamava un drago. Gli amici al bar del Giambellino, dicevano che era un mago. Vent'anni, biondo, ma è una lira, per non passare guai. Tuttava intorno che aria vera, e non scoppava mai. Il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamava un drago. Gli amici al bar del Giambellino, dicevano che era un mago. Che era un mago. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù. E mi troverai seduto sulla mia torpedo blu. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. È una vera fuoriserie come senza libero. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato, che ha di fronte solamente la natura. E cammina dentro il bosco con la gioia di seguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero. Non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione. di un uomo. Vorrei essere libero. Libero come un uomo. Come un uomo. Penso che ti rassegnerà. Prova a pesare Annibale. E tu ti accorgerai di un grande generale. Cos'è rimasto ormai? Eppure l'Africa non gli bastava dal mare oceano fino all'Egitto. Sape che sicuro il lucanio praticamente deve restare un po' scuro. Ci sono parti del vostro corpo che vanno in ombra. Questo è sicuro. E se alla fine al vostro compagno volete chiedere un pegno d'amore, potete chiederlo. Ma condizione che non sia di nessun valore. E a questo punto, giovani amiche, termina il canto termina l'estro. Ma ricordatevi di dire sempre che è stato video il vostro maestro. Grazie. Quasi quasi ti faccio uno shampoo. Una strana giornata. Non si muove una foglia. Ho la testa ovvattata. Non ho neanche una voglia. Non c'è via di scampo. Devo farti per forza uno shampoo. Ne ho conosciute tante di famiglie. La famiglia è più economica e protegge di più. Ci si organizza bene una minestra per tutti. Tranquillanti, aspirine per tutti. Gli assorbenti, il cotone, i confetti falconi. Soltanto 400 lire per purgare tutta la famiglia. Un affare. Si caga in famiglia. Si caga bene. Lo si fa tutti insieme. Sto facendo tanto ruolo. 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 per non morire, forse può piacere, abbia fatto l'Europa, baciare anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna un tuo corpo lo so. Io non mi sento italiano, ma per fortuna più troppo, per fortuna più troppo, per fortuna. Per fortuna lo so.